Buonasera signore e signori, sono il S88, benvenuti con la 38esima parte della nostra guida a Pokémon Bianco 2 Siamo sempre alla Lega Pokémon, quest'oggi andremo ad affrontare Merton, che sarà il nostro secondo sfidante per la Lega Pokémon Utilizzerà prevalentemente i Pokémon di tipo buio, quindi io ho guardato un po' la squadra ma non abbiamo né Pokémon Lotta né Pokémon Coleottero Che possano aiutarci, quindi vediamo un po', proprio zero, non abbiamo nemmeno Inox E qui dovremmo lavorare molto di fisico, proprio di bomba, perché ho Entemo Blocco come mossa, però toglie 30 Cioè non posso insegnare a Flygo l'Entemo Blocco per niente, perché veramente non avrebbe molto senso No no, poi è una mossa speciale, non voglio Noi inizieremo sempre con Flygold e quindi andiamo ad affrontare il secondo Merton Bello, degli artigli, proprio violenza a palla Potente a palla ragazzi Oh, ganzo Un po' sadico questo signor Merton Qui verrà deciso chi risplenderà dopo essersi impadronito della luce, dell'avversario E chi sarà a decidere, mi sembra ovvio, sarò io Merton E ora lascia che adempio al mio compito, che la lotta inizi Quindi per la prossima volta mi raccomando, bombardati di Pokémon, almeno un Pokémon erba Che sappia tipo forbice X, oppure qualcuno che sappiamo se è tipo lotta Allora, contro gli Heepard, io utilizzerei la tattica scappiamo e non ci facciamo prendere Perfetto, usiamo il bruciapelo Note e sferza Vediamo con volo quanto riusciamo a togliergli Usa attrazione Vediamo un po' Vabbè, gli abbiamo tolto anche abbastanza Voliamo di nuovo Anche perché comunque sia Flygola, un botto di attacco fisico Speciale no, entmo block non sarebbe stato utile Crocodile, il Pokémon Ah, non vi ho detto gli attacchi che aveva gli Heepard Vabbè, ve li dico adesso Bruciapelo, attrazione, era assalto e note e sferza Crocodile invece sarà l'L56 Con Sgranocchio, Drago Artigli, Rocciotomba e Terremoto E noi invece manderemo Gellicent Eh, Sgranocchio ci toglie, ci toglie, ci toglie, eh sì Per fortuna che siamo resistiti, ma veramente Uuuuh, brutto colpo di Gellicent Grande colpaccio Adesso Scrafty Che avrà Rocciotomba, Sgranocchio, vediamo puntura e breccia Io a questo punto, allora vediamo un po', Rocciotomba, ve ne è in puntura Breccia, mandiamo Scizzo Perché comunque sia, a parte Rocciotomba che forse ci può togliere qualcosa Avele in puntura non ci può causare niente Eh, magari Anche Psico, oh, siamo più veloci noi, buono Il Granocchio non ci toglierà granché Quindi Meteor Pugno di nuovo su Scrafty Grande Scizzo ragazzi B-Sharp, il Pokémon tipo Power Ranger Forbice X, Notte Sferze, Ferrartigli, Aereo Assalto Avrà, Pokémon anche tipo acciaio buio, ecco Lui è un po', un po' Power Ranger A me non piace molto perché l'hanno fatto troppo, troppo umano A livello 58 Uh, l'attacco di Bishop aumenta di molto Questa non ci voleva Usiamo gli Rogodenti con Nami Uh, è più veloce Uh, quanto gli abbiamo tolto Non male, non male, non male Tentenna Oddio Tentenna Nami, il colpaccio Il colpaccio di Nami Il colpaccio di Nami Allora, curiamo innanzitutto la nostra squadra con il Latte Mumu Tanto ne abbiamo in grandi quantità Prima di utilizzare le ricariche totali Almeno le teniamo un po' Ok, perfetto Uh, fammi vedere Di Elisir ne ho uno Meglio che Elisir Max Revitalizzate Max Ok Eh, ho abbastanza strumenti Sì, dai Ok, quindi là Un'altra parte della nostra guida A Pokémon Bianco 2 Sulla Lega Pokémon Termina qua Eh, nella prossima Affronteremo il terzo Eh, Super 4 Come al solito vi dico Votate, commentate Iscrivetevi Un ciao Dash88 Ciao ragazzi